Ha sido una partita durissima, fino a... Ha sido una partita veramente difficile, fino all'ultimo non si sapeva chi vinciava. Penso che abbiamo giocato un gran palacanestro durante 30 minuti, dopo l'ultimo quarto ha sido difficile, perché loro sono una grande squadra, però penso che in generale abbiamo giocato una grande partita. Uno del palmo ha giocato con la testa e anche con il cuore. Sì, sì, penso che ha sido anche difficile l'overtime, tiene giocatori clutch e anche loro. Ha sido difficile, ma abbiamo giocato bene e intelligente per poter vincere. Grazie. Il piano che voleva regolare il season davanti era uno, l'avevi detto, il primo grande obiettivo che vi eravate dati. Qual era la sensazione, lo spogliatoio doveva esserci riusciti? Felicità. Felicità. Abbiamo giocato 33 partite con questo obiettivo e oggi aver vinto una grande squadra e averlo fatto così è veramente buono, è una segna buona e penso che siamo pronti per affrontare questo playoff. 32 punti una volta, 30 un'altra e Modigliani ti porta bene. Eh, mi piace giocare qui. Grazie. Grazie.